Siamo nella zona a ovest dell'Olimpico, nella direzione di Montemario, come vedete qui c'è un blocco della finanza, siamo sul ponte quello nuovo, di là potete vedere il ponte Duga d'Aosta, quello centrale che porta alla curva sud, giornata tranquilla, Roma-Juventus 11 maggio 2014, Roma-Juventus, la Juventus festeggia il suo ennesimo scudetto, la Roma al secondo posto, comunque un secondo posto ottimo e che all'inizio della stagione avrebbero messo la firma, ricordo che all'inizio della stagione dopo una decina di partite la Roma aveva vinto tutte le partite, insomma era lanciata addirittura si parlava di scudetto Poi ci sono anche gli internazionali di tennis d'Italia e infatti vediamo lì uno degli ingressi per gli internazionali, si gioca quindi un torneo di altissimo livello, uno dei più importanti nel mondo, non solo in Europa, che sale sempre più di prestigio, per quanto riguarda la sicurezza tutto sotto controllo, quindi per il momento quando manca circa un'ora e mezza all'inizio della partita, vi vedete il ponte Duga d'Aosta che è comunque abbastanza tranquillo e oggi anche giornata ideale per giocare a calcio e anche a tennis, un po' coperto comunque, ma tutto diciamo non dovrebbe piovere, c'è il sole, fa caldo e infine sicurezza abbiamo detto appunto, poche forze dell'ordine impiegate, si teme, si è parlato parecchio ma forse più che altro si temeva l'effetto della sparatoria della settimana scorsa Coppa Italia Fiorentina-Napoli con il ferito napoletano all'ospedale